E' stato presentato questa mattina a Udine il nuovo progetto dell'Arlef, YouPalTubo, è il canale YouTube che racconta le avventure e disavventure di un gruppo di giovani friulani. Un canale YouTube particolare organizzato dall'Arlef, dall'Agenzia regionale per la lingua friulana. YouPalTubo, parliamo delle caratteristiche, intanto questa non è la prima volta che viene organizzato un canale YouTube. Sì, è un canale dedicato, in realtà noi avevamo già fatto il canale con Ghitti, che è anche un sito che è importante per i bambini, quindi una visione in sicurezza, dando la tranquillità anche ai genitori che i contenuti sono stati controllati. Questo è un canale che è dedicato all'adolescenza ma anche all'età adulta, molto divertente, con filmati che sono veramente originali e spaziano dalla scienza alla storia, ai modi di dire, veramente è anche il volontariato, bisogna sottolineare anche questo. Ed è stato fatto da otto giovani, dai 20 ai 28 anni, diciamo che ci sono dati molto da fare, con grande professionalità. I friulani hanno una grandissima risorsa, qualcosa da tutelare e da amare, che è la lingua friulana e speriamo che con questo messaggio andiamo un momento ad arricchire non solo l'offerta di materiali audiovisivi, ma soprattutto ad arricchire la sentimentalità che è già alta, per l'amor di Dio, però è importante dare quegli stimoli interessanti per poter proseguire nella lingua friulana.